grazie questo chiede l'omaggio da parte di una delle categorie, delle quattro categorie una delle quattro categorie? no, a giuristi ci stanno sempre le categorie lavoratore stasera sono i fioristi, le commesse, i commessi, gli apicoltori, abbiamo le guide alpine che significa che i disoccupati a domenica non verranno mai? sono tagliate fuori da qua, cioè oltre a chi le nasce a fortuna non faticano manca la soddisfazione ci fa che domenica in almeno mi distraggono poco allora cosa dovrei fare secondo te? invita ma no, se vuoi fare una categoria, chi le tocco per il tuo settore proprio? siamo tutti disoccupati no? vabbè si può fare tanto chi le può ne fa pure tardi, può fare una trasmissione no, con l'unneria non c'è niente da fare una categoria con l'unneria o martiria, sai come sono? noi gli disoccupati non è che tenono tante cose a fare parliamo della Befana è quello che ci sono